Ciao creatura Io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di... Cosa è? E-S-M-A Mi è stata regalata questa borraccia e dato che a me la borraccia serviva Però non bevo coca cola, non mi piace tanto così Ho deciso di decorarla con gli stickers codici che avevo acquistato Tanto, 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 tanto tempo fa Sono uguale a Express E un po' stile Visk Girl Però la versione è gotica Oh, il martello di Thor che picchia sulla borraccia, non è molto ASMR Allora, decoriamola insieme Questi adesivi sono waterproof, quindi non dovrebbero esserci problemi Anche perché dalla descrizione di Aliexpress Potrei appiccicarli anche su un'automobile Quindi si presume siano waterproof Però lo scopriremo solo vivendo Vivendo, vivendo Ok, non mi piace l'aia aperta E ti faccio vedere com'è Ora Semplice, così Questo qui So già come coprirlo Adesso ti faccio vedere una cosa perfetta Eh, cosa ne pensi? Penso che prenderò tutti gli stickers che preferisco E li appiccicherò in modo casuale Che stiano vicini Ma non troppo vicini Non troppo che si sovrappongano Uno all'altro Però non penso di averne così tanti Da coprirla tutta, non lo so Ero un po' indecisa se farlo tutto Tutti appiccicati uno vicino all'altro O separati Però secondo me Più sono Più superficie coprono E meglio è Perché da più Più figo così Più figo così Allora L'ho già lavata e asciugata Con uno asciugamano Ed ora Andrò a appiccicare Casualmente Diciamo Gli adesivi Ho già sbagliato Ok Sì l'ho già Staccato Rattaccato tre volte Perché non sono neanche un po' Precisa E volevo Metterlo Perfetto Vabbè Si aderisce Perfettamente Ed è Bello liscio Secondo me Sì che sono Waterproof Ok Ok Poi Mi piaceva tanto Questo Questo qui Questo qui Questo qui Ecco Già Sembra Che si incastri Alla perfezione Mettiamo questo qui Col teschio Che sì Che si sta squagliando Perché c'è troppo caldo Che sì E Grazie. Grazie. Ok. Adesso non ho idea di cosa mettere. Sicuramente vorrei mettere questo. E sicuramente vorrei mettere questo. 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 Questo mi piace tantissimo. Comunque se vuoi vedere tutti questi stickers trovi un video. Casomai lo metto qua. E così te li vedi tutti tutti tutti. Perché non andrò a metterli... Cioè non vorrei mettere tutti perché alcuni non mi piacciono tantissimo. Però magari quelli meno belli li mettiamo dietro. Poi... ... 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 Ecco, che splendente! Anche questo così dopo. Pour fun, pour fun. Vediamo la fascia tuya. Mi sto piacendo tantissimo. Allora... Non voglio coprire... Non vuole coprire la scritta perché mi piace tanto. Però volevo evitare di mettere cose sataniche tipo la chiesa della notte, vabbè che ripresa da Sabrina che è una serie, però... Volevo comunque mantenere un certo livello di sobrietà, diciamo, ecco. E anche l'accademia delle... Cioè con questi caproni volevo un po' evitare. Però se sarò costretta a passaggio, voglio dire... Mi sacrificherò, ecco. Questo sta a pennello, copre giusto giusto le cose che non mi piacciono tanto e... E una parte, eh. Non manca tantissimo, eh. Ecco, quindi c'è rimasto questo che mi piace tanto, che voglio metterlo. E... E... E anche magari questo. Questo mi piace tanto. Questo mi piace tanto, però non lo voglio, tra virgolette, sprecare per la borraccia, quindi lo metterò da qualche altra parte. Mi piacerebbe metterlo sull'azmart. Prosa sveglione. Com'è... Refresciono un asciotto qui, invece io. Questo non so se ci sta, mi sa che devo abbandonare l'idea. Metto questo perchè mi piace tanto. Ok. 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 Così. Vabbè. Mamma mia. Che precisione. Non lo riuscivo a mettere perfettamente dritto e mi dava fastidio. Ok. Ce l'ho fatta. Ok. Non manca tanto adesso, c'è pochissimo spazio, bisogna scegliere. Ok. Questo parfum. Tutto questo. È mancati sotto gatti. No, no, no. C'è anche questo. È questo che mi piaceva. Sono molto, 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 molto indecisa. Questo ci sta perfettamente e lo copro così mi dispiace non aver messo questo. Però lo metterò da qualche altra parte perchè è troppo bello. è finita, è bellissima, mi piace tantissimo. Cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti. lasciami un like. E niente. Stupendo. Se vuoi vederla più nel dettaglio farò qualche video, mini video, storia su Instagram, se ti interessa. Oppure in feed. Adesso devo decidere. Comunque mi piace tanto. Adesso sì che la metto volentieri nello zaino. anche se c'è tanta luce provo a fartelo vedere perchè c'è riflesso. rilasso. 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 Spero che questo video ti abbia fatto rilassare e ti abbia anche ispirato. Io ti auguro buonanotte, buon relax. Ciao, creatura. Grazie.